allora ci avviamo la conclusione però prima della l'ultima parte una bella storia una grande storia dell'Italia che si fa valere in Silicon Valley Andrea Carcano di Nozomi prego grazie mille grazie mille buongiorno a tutti io sarò molto breve e oggi sono qua eh sono siamo stati abbiamo visto questa due giorni dove abbiamo parlato di innovazione eh Davide e il suo team mi hanno invitato a raccontare un po' la mia storia che insomma parla un po' di innovazione parto dalla fine io sto in Silicon Valley sto a San Francisco e lì eh dirigo l'azienda che ho che ho fondato abbiamo diversi uffici uno qua in Italia uno a Dubai e in altre parti del mondo tra cui anche la la Silicon Valley ma qual è un po' la storia che 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 vi racconto oggi? Beh la storia da dove siamo partiti prima di arrivare in Silicon Valley innanzitutto io sono sempre stato appassionato di cyber security ho iniziato hackerando il computer degli amici e da lì ho sono andato avanti con i miei studi e ho studiato in Italia ho fatto una laurea trentale qui la specialistica è una piccola università del nord Italia dottorato di ricerca sempre su sugli stessi temi di cyber security e poi ho avuto modo di lavorare anche per una grande azienda italiana Eni che mi ha un po' formato no? E lì ho iniziato a pensare ma se avessi quello che ho sviluppato durante il dottorato durante i miei studi sarebbe più facile eh risolvere alcuni dei problemi che abbiamo e da lì è nata l'idea di di partire con un'azienda nostra non è stato semplicissimo all'inizio siamo siamo partiti io e e Moreno l'altro founder di Nozomi è stata è stata un'avventura bellissima difficile difficile all'inizio e abbiamo sempre un po' avuto il sogno di provare a mettere insieme quello che era la nostra conoscenza le nostre eh talenti che abbiamo in Italia con quello che c'era nella Silicon Valley perché alla fine è una cosa che racconto sempre è un po' come un giocatore di basket no? Che eh parte parte da dall'Italia e poi sogna di andare a giocare nell'NBA no? I più bravi che fanno cyber security più bravi che fanno innovazione comunque stanno lì tantissimi dei più bravi stanno lì quindi abbiamo avuto questo sogno eh come abbiamo fatto a realizzarlo? Beh eh innanzitutto con tanta passione come come abbiamo detto prima eh abbiamo trovato i partner giusti nel senso che il nostro primo investitore è stato Planven che ci ha aiutati a creare le prime connessioni verso la Silicon Valley da lì siamo cresciuti in Italia abbiamo convinto il nostro primo cliente a cui che oggi ancora oggi è un cliente con cui noi collaboriamo in modo molto stretto e di nuovo un'eccellenza italiana che è Enel eh con cui noi continuiamo a collaborare in modo in modo molto stretto e da lì siamo riusciti ad attrarre degli investitori della Silicon Valley eh siamo partiti siamo andati in Silicon Valley abbiamo raccontato la nostra idea abbiamo raccontato la nostra storia con un po' di scetticismo un po' di scetticismo perché non è facile investire in un'azienda italiana che fa tecnologia poi cyber security no? È più facile investire in altri settori per cui siamo famosi e però da lì siamo riusciti a convincere i primi investitori abbiamo raccolto i primi soldi e oggi oggi abbiamo un'azienda che ha diversi uffici in tutto il mondo nel nostro campo siamo considerati come una delle delle realtà più forti nel tema della cyber security e la cosa di cui andiamo orgogliosi è che la metà circa dell'azienda è ancora fatta da ingegneri italiani quindi chi sviluppa il prodotto chi fa la tecnologia la fa l'Italia non facciamo la tecnologia negli Stati Uniti la facciamo con ingegneri italiani e l'altra cosa abbiamo creato un bellissimo asse con con poi il ministero degli esteri infatti là abbiamo insomma in particolare il consul da San Francisco Lorenzo Ortono ci aiuta molto abbiamo creato un network bellissimo là e quindi stiamo stiamo continuando a crescere oggi siamo circa 200 persone e insomma cresciamo e ci divertiamo quindi grazie questa è un po' la mia storia sull'innovazione buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.